Fargono a 29 le ordinanze di custodia cautelare seguite dalla polizia stradale per vieto nell'ambito dell'operazione che nei giorni scorsi ha permesso di basterare un'associazione delinquere specializzata nei furti a danno dei camionisti lungo l'autoslata del sole, in particolare tra l'Umbria e il Viterbitte. E' stato infatti arrestato nella sua casa di Napoli, al rientro da un appiaggio in Germania un da 29enne pluripresidicato, considerato dalla polizia uno dei componenti principali della banda, al momento che rimangono due persone ancora alla vita.